Siamo in un momento storico eccezionale mi piace parlare di rivoluzione copernicana di smattere punto zero perché fino a pochissimi anni fa non avevamo niente da offrire ad una giovane coppia cui diagnosticavamo una malattia che era mortale purtroppo oggi abbiamo diversi farmaci che sicuramente salvano la vita di questi bambini e di quello di cui parliamo è una terapia genica quindi è una terapia che fa proprio da lavora sulla causa genetica della malattia quindi fa da cerotto sul gene malato e produce una proteina che manca all'interno del corpo dei nostri bambini fino a qualche settimana fa potevamo trattare soltanto bambini con la forma più grave della malattia e con due copie del gene smn2 da oggi parliamo di poter trattare anche bambini con tre copie del gene quindi bambini che avrebbero avuto la forma 2 della malattia per cui bambini capaci di stare seduti da soli ma non di camminare in maniera autonoma se io riesco a trattarli precocemente al momento della nascita do la possibilità anche a questi bambini invece di avere una vita il più normale possibile quindi di avere lo sviluppo psicomotorio in regola con le tappe come i coetanei come i bambini sani e quindi questo è veramente una vera e propria rivoluzione